è creduto vero ho letto che il sacerdote asita riconoscendo in un bambino i segni di chi poi sarebbe diventato sidarta pianse perché l'età avanzata non gli avrebbe permesso di vedere il messia atteso questa leggenda mi ricorda quella delle vita simeone riportata nel vangelo di luca che pianse di gioia per essere vissuto abbastanza da vedere l'atteso messia commento i maestri immateriali ripetono che un fatto è vero e produce evoluzione non perché è vero ma perché è creduto vero grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti